L'annuncio tanto atteso è arrivato. La Palacanestro Varese e Open Job Metis vanno avanti insieme. Per l'undicesimo anno consecutivo, infatti, l'Agenzia per il Lavoro Interinale sarà main sponsor dei Biancorossi. Un annuncio, quello del rinnovo, è arrivato oggi, martedì 23 luglio, dopo che ieri Group Crit, controllante di Open Job Metis, aveva dato la delibera definitiva per la conclusione dell'accordo, comunicato a mezzo stampa in una conferenza tenutasi nella sede di Gallarate dell'azienda presieduta da Marco Vittorelli.